Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura alla cronaca. I carabinieri del nucleo operativo di Giulianova hanno arrestato tre italiani, uno di Bellante e due Foggiani, responsabili di numerosi furti di autocarri e macchine per movimento terra. I furti sono avvenuti tra i mesi di giugno e agosto del 2021 nelle località di Campli e Mosciano Sant'Angelo, a danno di locali imprese edili. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Operazione Predator dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova, a seguito di numerosi furti di autocarri e macchine in movimento terra, avvenuti tra i mesi di giugno e agosto del 2021 nelle località di Campli e Mosciano, sono stati arrestati un 31enne di Bellante e due Foggiani di 38 e 46 anni. I primi due sono stati condotti in carcere, mentre al terzo è stato notificato l'ordine di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria. Un risultato ottenuto grazie alla complessa attività info-investigativa ad ampio raggio, che ha consentito ai militari di dare un nome ai responsabili dei furti. I sospetti sono nati a seguito di un'attività capillare di raccolta delle immagini, soprattutto delle telecamere a circuito chiuso, che sono state individuate dal personale del nucleo operativo dei carabinieri di Giulianova. Una volta raccolte le immagini delle videocamere, ha poi effettuato degli accertamenti ulteriori attraverso un traffico di cella per verificare i cellulari che in quella determinata area e nell'ora dei furti avevano operato in simbiosi. E quindi siamo arrivati all'individuazione dei soggetti in questione che hanno operato in simbiosi anche per tutti gli episodi che noi abbiamo accertato nella circostanza. Sono mezzi pesanti che hanno un valore, ma hanno un valore non solo economico per l'azienda, perché diciamo che una volta che vengono asportati i mezzi che la ditta utilizza per effettuare l'attività lavorativa, di fatto il cantiere si ferma e quindi c'è un doppio danno perché la ditta oltre a non poter andare avanti nelle attività appaltate, si trova a dover riacquistare dei mezzi per poter continuare l'attività lavorativa. Atto vandalico questa notte contro la sede della CGL di San Vito Chietino. I gnoti hanno mandato in frantumi l'ingresso vetrato e aperto tutti i cassetti dell'ufficio in corso della fazia. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Ortona e il nucleo della scientifica. Sul posto è giunto anche il comandante provinciale, il colonnello Alceo Greco. Gli investigatori hanno sostenuto che è prematuro trarre le conseguenze sull'accaduto. La pista politica non è esclusa anche se si sta verificando pure l'ipotesi eventuale di tentativo di furto. Sul posto è giunto anche il dirigente della Digos della questore di Chieti Coriolano Conte a coordinare l'inchiesta e la procura di Lanciano. E ora la politica dopo le elezioni regionali. Una parte del partito aveva chiesto di dialogare ma abbiamo trovato la porta chiusa. Così l'ex consigliere della Lega Simone Angelo Sante che motiva la decisione di abbandonare un partito in Abruzzo. Ormai in piena crisi non è una manovra di palazzo dice ma una soluzione che porterà vantaggi agli abruzzesi. Il servizio di Selenia Secondi. Escono sia dal gruppo del Consiglio regionale che dal partito e aderiscono al gruppo misto come componente di maggioranza tre consiglieri regionali della Lega. Simone Angelo Sante, Antonio Di Gianvittorio e Emanuele Marco Vecchio. Una decisione ragionata e molto pesante dopo settimane di contrasti e di mancanza di dialogo in un momento cruciale per l'Abruzzo. Dopo l'autosospensione in netto dissenso con la gestione del partito in Abruzzo, adesso l'uscita dal partito proprio da parte di lei che ha fondato la Lega in Abruzzo nel 2015. Le motivazioni sono tante, un documento che non doveva uscire, però ad oggi qual è la posizione che vi spinge a fare questa azione? È una posizione di dignità, noi abbiamo chiesto semplicemente un colloquio, abbiamo chiesto un incontro programmatorio per il bene della Lega, contro nessuno, ma a favore della crescita della Lega. Si è ritenuto di non dare ascolto a questa nostra richiesta, noi abbiamo una dignità da mantenere e alla quale teniamo tantissimo e quindi oggi usciamo dalla Lega con molto dolore, perché la sento in parte una mia creatura qui in Abruzzo, ma non poteva esserci una soluzione diversa. Una decisione che vi porta verso quale sponde, verso quale rive, forse la formazione di una nuova realtà politica o cosa? L'ho già detto prima, noi non vogliamo fare proselitismo, noi non abbiamo accordi con altri partiti politici, noi non abbiamo accordi con movimenti civici, che se ne dica, noi siamo noi, proponiamo la nostra offerta politica. So che in tanti anche consiglieri attualmente presenti in Regione Abruzzo c'è la condivisione di questa nostra iniziativa, so che ci sono decine, centinaia di amministratori che condividono questa iniziativa, ma sarà il tempo a decidere e sarà il tempo a vedere quale saranno le evoluzioni. Un messaggio alla base del partito? Ripeto, non voglio fare proselitismi, non vogliamo creare difficoltà, un partito che amo profondamente, dico alla base del partito di restare dove sta, ma di farsi sentire con forza per far valere le proprie ragioni e le ragioni degli abruzzesi. Non c'è alcun rallentamento in Abruzzo nella somministrazione della terza dose di vaccino anti-covid-19, il dato generale è inferiore alla media nazionale, semplicemente perché nella nostra regione la prima fase della vaccinazione ha riguardato fasce della popolazione più ampie, che oggi non possono ancora accedere alla prenotazione della dose booster, in quanto non hanno compiuto i 60 anni. Lo precisa l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri, la scorsa primavera, prima dell'introduzione del sistema legato alle classi di età, spiega la Veri, In Abruzzo abbiamo consentito la vaccinazione a tutti coloro che avessero un codice di esenzione per patologia cronica, ai caregiver, ai familiari dei disabili gravi, a tutti gli operatori dei servizi scolastici, compresi addetti a menze, pulizie e trasporto, a figure professionali che gravitano nel mondo sanitario, informatori scientifici, ottici, audioprotesisti e audiometristi. Gran parte di questi nostri concittadini ha meno di 60 anni di età e dunque oggi non può prenotare la somministrazione della terza dose, a meno che non rientri nella categoria degli ultrafragili, nella quale è ricompreso un numero limitatissimo di patologie. A questa platea è rilevante, vanno inoltre aggiunti gli abruzzesi di età compresa tra 60 e 80 anni, non titolari di esenzione per patologia, per i quali non sono ancora trascorsi i sei mesi dalla somministrazione della seconda dose. La ASL di Teramo si prepara a fronteggiare la quarta ondata Covid con l'apertura di un secondo hub vaccinale, affrontato anche il grave problema delle liste di attesa, negli ultimi mesi si sarebbero accumulate circa 40.000 prestazioni sanitarie in evase. Il manager di Giosia annuncia il raddoppio delle sedute chirurgiche e assicura che entro due anni i ritardi saranno azzerati. Vediamo. L'ASL di Teramo si prepara a fronteggiare la quarta ondata Covid prevedendo un ulteriore hub vaccinale oltre quello di Parco della Scienza. E se è vero che in provincia di Teramo i contagi aumentano, così come i ricoveri, nessun vaccinato è in terapia intensiva. Da qui l'appello ai cittadini da parte del direttore generale Maurizio Di Giosia a vaccinarsi tutti. Sotto terapia intensiva non vi è stato mai ricoverato un vaccinato nella terapia intensiva. È ovvio che si sta verificando questo per quanto attiene i ricoveri, che all'inizio erano solo ricoveri di persone che non erano vaccinate. Oggi le cause, è ovvio, sono tante, però il fatto che il vaccino perde un po' di efficacia e per questo la cittadinanza viene invitata a fare la terza dose. Questo determina anche una riduzione di protezione nei confronti dei vaccinati e anche coloro che hanno avuto il vaccino soprattutto nei primi mesi. Oggi rischiano di essere contagiati e per questo invito nuovamente tutti a vaccinarsi. Chi non l'ha fatto, soprattutto chi non l'ha fatto e soprattutto anche chi deve fare la terza dose. Ma non c'è solo l'emergenza Covid. L'Asla di Teramo ha accumulato oltre 40.000 prestazioni sanitarie in evase negli ultimi due anni. Queste liste d'attesa lunghissime hanno portato i vertici aziendali ad annunciare un immediato piano di recupero da oltre 2 milioni di euro per azzerare liste d'attesa e mobilità passiva. Intanto già da questa settimana è previsto il raddoppio delle sedute chirurgiche ortopediche per l'applicazione di protesi d'anca e ginocchio oltre a quelle dedicate ad ernie e colicisti. Patologie queste che maggiormente fanno emigrare i teramani verso altre asla di confine. Come liste d'attesa stiamo mettendo tutta una serie di iniziative volte al recupero del pregresso. Tanto è stato fatto, ma tanto dobbiamo ancora fare. Dobbiamo mettere in campo tutte le forze e utilizzare tutti gli strumenti che ci consentono appunto di ridurre l'istate sia di quella ambulatoriale, sia dei ricoveri, sia degli interventi. Il manager di Giosia sottolinea infine la grave carenza di anestesisti. Mancano al momento 35 unità, ma assicura che grazie a questo piano di recupero le liste di attesa dell'asla di Teramo saranno azzerate in meno di due anni. Ora ci spostiamo a Pescara con la situazione di Viale Marconi ancora da sistemare il Partito Democratico. Torna ad attaccare la giunta guidata dal sindaco Masci dopo una nuova esclusione dalla graduatoria per i fondi PNRR. Stefano Recanati. Il Partito Democratico di Pescara torna ad attaccare la giunta Masci. Questa volta sotto i riflettori dei consiglieri comunali di opposizione sono finiti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede la città adriatica esclusa dal progetto per la realizzazione del tracciato per la metropolitana di superficie e l'acquisto di materiale rotabile, tema che coinvolge anche il dibattito su Viale Marconi. Questo progetto che prevedeva la realizzazione del tracciato BRT, che prendeva tra l'altro via Castellammare, quindi in un certo senso un po' riprendeva il progetto della passata filo via, ma allo stesso tempo permetteva di creare un'infrastruttura che coinvolgesse anche San Giovanni Tietino. Un problema serio questo perché viene anche ad impattare nel momento in cui c'è quest'ampia discussione su Viale Marconi. Questa esclusione dalla prima ripartizione è la più pesante in termini economici, 62 milioni di euro, ed arriva dopo la bocciatura dei progetti legati al bando sport e periferie 700 mila euro e qualità dell'abitare 15 milioni di euro parzialmente finanziati dal PNRR. Per quanto riguarda la qualità dell'abitare si poteva attenzionare molto la questione delle social housing, delle co-housing di cui c'è necessità nel nostro territorio. Allo stesso tempo per quanto riguarda i fondi proprio specifici, relativi alle scuole, avevamo chiesto di portare degli elementi innovativi anche evidenziando degli interventi specifici per lo 06, cosa che noi stiamo chiedendo ormai da quando questa amministrazione si è insediata. Quello che ancora una volta sottolineiamo non serve aprire il cassetto e tirare fuori dei progetti. Qui bisogna avere un'idea futuristica che vada al di là di determinati limiti che possono essere quelli dei tempi, eccetera, e soprattutto imparare a programmare. Questa amministrazione purtroppo questo ancora non lo sa fare. Il sindaco sospeso di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha lanciato un nuovo movimento politico di ispirazione civica. Si tratta di Abruzzo al centro. Il primo banco di prova sarà l'elezione del presidente della provincia dell'Aquila. Vediamo. Irrompe sulla scena politica regionale il progetto Abruzzo al centro, ispirato da Gianni Di Pangrazio, e deciso a riempire il vuoto lasciato dai partiti, come evidenziato dalle larghe percentuali di astenzionismo delle ultime elezioni amministrative. Il progetto civico, spiegano dal movimento, punta a dare voce e forza ai cittadini delusi dai partiti tradizionali che si affidano alle liste civiche presenti sulla scena politica locale e nazionale o si rifugiano nell'astenzionismo. C'è un vuoto, ma il vuoto è dovuto soprattutto alla mancanza di raccordo che c'è tra le forze dei partiti e i cittadini. Noi vogliamo fare in modo che si riempia questo vuoto, ma si riempia soprattutto per ridare poi quella linfa giusta ai partiti, ai partiti che nasceranno, ai partiti che si definiranno dopo sicuramente l'elezione del presidente della Repubblica, che siano dei partiti che guardino e che si rapportino direttamente con i cittadini. Vogliamo coordinarci e federarci con altre realtà civiche di tutto l'Abruzzo, ce ne sono tantissime, e vogliamo essere da stimolo proprio per una politica più vicina ai cittadini, più professionale, più capace di riportare le esigenze vere dei cittadini nelle istituzioni. Il movimento targato di Pangrazio è deciso a recitare un ruolo primario già nell'imminente partita delle elezioni provinciali. La squadra ha già lavoro per l'individuazione di un candidato civico per la carica di presidente della provincia dell'Aquila, in un progetto che mira ad attingere dal territorio forze fresche per dare nuova linfa all'ente. Noi partiremo dall'individuare un candidato civico e apriamo chiaramente a chi avrà la voglia, avrà il desiderio di condividere con noi questo progetto, che è un progetto solamente di provincia dell'Aquila. Con la Marsica, uniti all'Aquilano, uniti alla Valle Peligna e all'Alto Sangro, siamo in grado di poter rigenerare e riequilibrare il sistema dei finanziamenti nell'ambito di tutta la provincia. A Villa Lanfaloni Giovanna Ercugliani ha festeggiato un secolo di vita in compagnia dei familiari e degli esponenti dell'amministrazione comunale di Montesilvano. Vediamo. Festeggiare i cento anni per Giovanna Ercugliani è sempre motivo di interesse e di soddisfazione, non solo per la famiglia intera, ma anche per l'amministrazione comunale, oggi rappresentata dal primo cittadino Ottavio De Martinis. Che cosa significa questo? Che a Montesilvano si vive bene? Diciamo che questo significa che la signora Giovanna ha vissuto bene, continua a vivere bene e questo è una grande cosa per lei, per la sua famiglia, ma anche per l'intera comunità montesilvanese che praticamente oggi è qui rappresentata da me e per festeggiare questo traguardo importantissimo che perché no, ci auguriamo possa anche derivare dal fatto che a Montesilvano si viveva bene. Signora Giovanna, oggi è un giorno importante, cento anni di vita, un secolo di vita. Lei se potesse riassumerlo in una frase, questo secolo di vita, che cosa ci potrebbe dire? Beh, ne vorrei altri cento. Ma qual è stato il momento più bello e il momento che vorrebbe dimenticare di questi cento lunghi anni? Non può dimenticare tutto quello della guerra, del 43, 45 e il più bello è stato il primo figlio perché era femmina. Oggi lei come si sente nonna? Bene, benissimo e auguro a tutti quanti di sentirsi come me. Ma nonna Giovanna, c'è un segreto per raggiungere questo traguardo, qual è stato il suo segreto? Beh, lavorare, 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 però delle volte fregarsene pure. Perché è troppo lavorare, sì, fa bene, fa bene, chi lo dice questo? Però... Se lo aspettava questa bella festa? Oddio, sono entusiasta, anzi, è troppo per me, non mi sembra nemmeno di meritarmela, non lo so. E al sindaco che cosa si sente di dire? Oggi è qui presente per festeggiarla? Lo faccio, se io fossi più giovane, se fossi più giovane direi che mi piacciono. Tanti auguri nonna, tanti auguri. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora la pagina dello sport, un'autorete di Inzita. Cinque minuti della fine condanna il Pescara alla sconfitta di misura a Cesena. I biancazzurri perdono il terzo scontro diretto e scivolano a meno undici della capolista reggiana. Un'altra prestazione in colore, senza mordente, senza particolari acuti in zona d'attacco. Ora il derby di sabato col Teramo potrebbe essere decisivo per le sorti del tecnico Auteri. Paolo Renzetti. cade anche a Cesena il Pescara che vede i primi tre posti della classifica sempre più lontani e con una formazione, quella biancazzurra, ancora deludente e perdente con una diretta concorrente. A questo punto il derby di sabato prossimo con il Teramo all'Adriatico varrà quasi una stagione con la panchina di Auteri che inizia a traballare. Inizio arrembante dei Romagnoli con Bortolussi che al secondo su punizione di Favale di testa mette la palla di un soffio al lato. Biancazzurri costretti subito alla difensiva con i bianconeri all'attacco. Al nono minuto però Dursi ci prova per il Pescara da 18 metri con la mira che non è delle migliori. La gara però con il trascorrere dei minuti diventa sempre più equilibrata con il Delfino meglio messo in campo rispetto all'avvio di gara. Al trentaquattresimo Ferrari protesta dopo un contatto in area con Moulet con Di Cairano che lascia però proseguire con Dursi fra i più attivi che va a sfiorare il gol con la palla che finisce di un soffio al lato. Al trentasettesimo pericolosissimo il Pescara con Pompetti che chiama al salvataggio in angolo il portiere Romagnolo. Finisce qui il primo tempo con i biancazzurri comunque in crescita. Nella ripresa avvio combattuto ma equilibrato fino al quarto d'ora. Al quattordicesimo squillo infatti di Bortolussi con un missile che fa tremare Sorrentino e con la palla che finisce al lato di pochissimo. Poco dopo primo cambio con il tecnico Auteri che manda sul terreno di gioco De Marchi al posto di un Ferrari nervoso ed evanescente. Al diciassettesimo ancora locali pericolosi con Caturano che di testa colpisce il palo esterno della porta ospite. Viali cambia tre giocatori con un Cesena più offensivo. Al venticinquesimo è infatti Sorrentino a salvare con la prima vera parata del match la sua squadra. Meglio sicuramente la formazione di casa in questa ripresa con i biancazzurri troppo indietro a difendere. Negli ultimi quindici minuti spazio nel Pescara Clemenza che entra al posto di Galano con le ultime fasi di partita del Manuzzi che vedono poi alla trentottesimo l'episodio decisivo della gara con la rete del vantaggio locale che nasce dal cross di Candela e dalla sfortunata Ebbe Farda Autorete d'Inzita con i padroni di casa che dunque trovano il gol dell'1-0. Si disperano i biancazzurri costretti a rincorrere a pochi minuti dal novantesimo nella bolgia del Manuzzi con il Pescara che prova nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro ma il pareggio non arriva e per i biancazzurri arriva invece l'ennesima battuta d'arresto contro una grande del torneo così come era accaduto con Modena e Reggiana. I fischi dei tifosi biancazzurri al novantunesimo la dicono lunga sullo stato d'animo in casa pescarese e sabato prossimo il derby con il Teramo sarà davvero per molti l'ultima spiaggia. E la nuova proprietà del Teramo è già all'opera per rafforzare la squadra dal mercato degli svincolati stanno per arrivare il portiere Perrucchini e il difensore Pinto il DS Inpectore Sandro Federico conferma che a gennaio saranno fatti innesti per elevare il livello di esperienza del gruppo ascoltiamolo al microfono di Jacopo Forcella. Possiamo dire che la nuova era parte quantomeno con una buona notizia con una vittoria e tre punti Sandro. Sì una vittoria importantissima direi dopo quella col Pescara oggi secondo me la squadra ha dato seguito a quella prestazione quindi bene bene così. Cosa ti ha convinto maggiormente? Hai rivisto magari qualche giocatore, faccio un esempio su tutti, Federico Viero su cui probabilmente quando è stato acquistato tre stagioni fa avevate puntato che forse si è un po' fermato ad un certo punto nella crescita, quest'anno è il suo anno, ha già fatto tre gol, due in campionato, uno in Coppa, è un giocatore che può essere il suo anno. Assolutamente, deve essere, deve essere perché so quello che vale, l'ho voluto fortemente tre anni fa, conosco perfettamente le sue qualità e ha bisogno solo di fiducia, probabilmente anche l'organico di questi ultimi due anni erano comunque squadre forti, squadre con tante alternative, quest'anno secondo me ormai ha completato la sua maturità, ma Fede inevitabilmente è stato sempre un po' più in ritardo anche nel suo passato nel settore giovanile e ha avuto sempre bisogno di un po' più di tempo, adesso lo vedo dopo Pistoia, rivedo il Federico della prima parte di qualche anno fa quando addirittura si era quasi conquistato un posto da titolare. La nuova dirigenza ha detto, i nuovi soci di maggioranza hanno detto comunque di voler rinforzare questo organico. Sì, perché è una squadra anche molto giovane, quindi purtroppo nel giovane questo è normale, avere qualche discontinuità nel rendimento. Adesso intanto giochiamo le prossime al massimo, poi si faranno delle valutazioni e si interverrà ovviamente a gennaio dove la squadra può avere qualche lacuna e a gennaio di solito si interviene con qualche giocatore più esperto di solito, quindi rientra anche nella normalità, però l'importante è continuare a vedere questi ragazzi crescere comunque di partita in partita. Serie D è stata rinviata a data da destinarsi la sfida di Coppa Italia, valevole per i 32esimi di finale tra San Benedettese e Notaresco, visti i casi di positività al Covid-19 che hanno interessato il gruppo squadra del Notaresco. La squadra di Mister Epifani prosegue con gli allenamenti singoli fino a giovedì quando è previsto un nuovo giro di tamponi. E chiudiamo con il volley, vanno tutte cappole, tre squadre abruzzesi di Serie A in A2, Ortona cade in 4-7 a Porto Viro, sul fronte femminile Altino perde lo scontro diretto con l'Aragona in A3, primo stop a sorpresa per l'Abbapineto che al Pala Santa Maria si è fatto sorprendere appunto in 4-7 dal Sandonà. Sergio Zappa l'Orto. Un disastro per le tre squadre di A. La Sieco parte a Porto Viro con il piede giusto, sostenuta anche dalla presenza di piazza, poi però, sia per la vena di Belle e non solo sul fronte locale, sia per un calo di adeguate concentrazione e continuità, si smarrisce per D3-1, ritrovandosi in coda con un preoccupante punticino alla vigilia di un'altra gara tostissima pur se in casa contro il Siena di Montagnani. In A3 l'Abbapineto crolla in casa un A3 netto contro un sorprendente Sandonà che ha giocato la partita perfetta come la tempesta, approfittando anche della giornata storta del sestetto di Rovinelli che mai ha dato la sensazione di potercela fare. Non più solitaria vetta, ma questo K.O. deve trasmettere la consapevolezza reale delle proprie forze accanto ai limiti da emendare senza perdere tempo. In A2 femminile, infine, ancora un K.O. dell'Altino, stavolta gravissimo perché nella propria Tana è al cospetto di una diretta avversaria per la salvezza, la Sicula Aragona, una A3 micigiale, 0 punti in classifica. A ciò si aggiunga che, invece di festeggiare rientro della Menicoli, si è infortunata la capitana Costantini, a conferma del momento no su tutti i fronti, si va a Olbia per cambiare rotta definitivamente. In B maschile, altro K.O., stavolta interno senza punti di una generosa Alba che cede una A3 al Falconara. Cade pure il Paglieta sul campo della capolista solitaria Pozzuoli, ma diversi sono i segnali positivi. Su tutti vedi il secondo set perso a 27. In B1 femminile, primo e tondo successo della Tetina, che nello scontro diretto con Lisernia vince 3-0 nell'immagini e convince, nonostante la defezione in extremis della trascinatrice Corradetti. Tre punti di platino e molto entusiasmo della giovanissima formazione del bravo Cristian Piazzese. Il tutto alla vigilia di un altro match salvezza sul campo del San Benedetto. In B2 al riposo, sul termo che resta vicecapolista. Colpo sia pure dopo tanta fatica in rimonta dall'1 al 2 al 3 a 2 di un Gada Pescara 3 che ha giocato più che bene, ma in maniera discontinua a pagliare. Due punti preziosissimi mentre cedono le altre bluzzesi. La Danunziana perde 1 a 3 con un secondo set ceduto addirittura a 31 contro il Coriaceo e il Quotato Trani in attesa del Gran Derby. Tutto pescarese sabato prossimo alle 17 al Palorfento contro il Gada. La CETAS Montesilvano crolla a Fasano in una gara senza storia. Domani alle 21, quinta puntata di Pallavolei. In serata vi ricordo l'appuntamento delle ore 21 con Proteramo. La trasmissione curata e condotta da Jacopo Forcella si parlerà della vittoria del Teramo sulla Fermana, del Derby con il Pescara alle porte e anche della cessione delle quote societarie. Il TG6 torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.